Salve a tutti amici Tuberts e bentornati dal vostro Gatoria Leggero Rosso 94 Allora, in questo video torniamo a parlare della questione legata al prossimo allenatore della Roma Ovviamente si stanno facendo decine di centinaia di nomi perché quando c'è un giocatore o un allenatore che rischiano di andare via nella stagione successiva Si fanno sempre 20.000 nomi per il suo sostituto dimenticandosene che alla fine ne arriverà soltanto uno Ma allora, tralasciando questo discorso Per il dopo Spalletti, visto che molti già hanno definito Spalletti come uno che se ne andrà via sicuramente Si sono fatti tanti nomi come appunto quello di cui vi parlo in questo video E cioè Eusebio Di Francesco Ma anche Paolo Sosa della Fiorentina Mazzari, Mancini Ci ho fatto anche un video qualche settimana fa in cui vi parla di 8 allenatori E nonostante tutto ne ho dimenticati altre 3 o 4 per farvi capire quante cavolate sparano i giornalisti Come se la Roma si fosse interessata a tutti gli allenatori sul mercato nel mondo Ma comunque, in questo video voglio parlarvi della possibilità che Eusebio Di Francesco possa allenare la Roma nella prossima stagione Perché stando a quello coletto in alcuni articoli La Roma deciderà di pagare la clausola di recessione di Francesco Che dovrebbe essere sui 3-5 milioni più o meno Per portarlo come un allenatore giallorosso Allora, premetto prima di tutto che io, gli allenatori che hanno fatto solo esperienze in squadre un po' minori Non li vedo di buon auspicio Nel senso che non è che se dovesse arrivare lo boccerai subito e direi Ma che schifo, era meglio Tizio, era meglio Semproni, eccetera, eccetera Ovviamente chiunque arriverà ad allenare la Roma e anche se rimarrà a spalletti ovviamente Avrà sempre tutto il mio supporto perché un allenatore che vive in un ambiente tranquillo È un bene per lui ma soprattutto per la squadra che allena E per l'ambiente romano in questo caso in generale Per questo motivo se dovesse arrivare di Francesco non sarei così fiducioso all'inizio Ma ovviamente non lo fischerei e non lo condannerei anche ai primi risultati negativi Qualora arrivassero È un allenatore che comunque ha fatto giocare molto bene Ezza solo in diverse circostanze Soprattutto nell'annata in cui sono andati addirittura in Europa League Purtroppo si è visto che la squadra che aveva in questa stagione Non era adatta per gestire tre competizioni O comunque sia il campionato che l'Europa League Infatti in Europa hanno fatto un emerito disastro Uscendo praticamente già ai gironi In un girone non particolarmente complicato Ma tralasciando questo discorso Di Francesco sa far giocare bene i propri giocatori Soprattutto sa valorizzare molto bene i giovani che ha a disposizione Mi viene in mente già solo Pellegrini Che lo ha valorizzato al massimo Ma negli ultimi anni anche Berardi Anche Zaza Che sono comunque giocatori esplosi nel sassuolo Sono diventati forti O comunque dei buoni giocatori Anche e soprattutto per merito suo E bisogna quindi dargli il merito di essere riuscito a valorizzare i propri giovani a disposizione Portando una squadra che aveva come obiettivo di salvezza Addirittura nella zona Europa League E quindi non parliamo certo di un allenatore inconsistente O uno che non è capace ad allenare la propria squadra Quest'anno oltre all'Europa League un po' disastrosa Non mi è piaciuto del sassuolo anche il fatto che hanno subito veramente tantissime rimonte Sia con la Roma che vincevano 1-0 e ha perso 3-1 Con il Milan vincevano 3-1 Ha perso 4-3 Con la Samp vincevano 2-0 E ha perso 3-2 più o meno Però hanno subito veramente tante rimonte E secondo me un allenatore deve essere bravo Anche a dare la giusta mentalità alla propria squadra Perché ok i mezzi tecnici sono quello che sono Però se tu subisci continuamente rimonte, 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 rimonte Ci deve essere anche un po' lo zampino del mister Che non è riuscito secondo me a lavorare bene nella mentalità dei propri giocatori Poi certo si ritroverebbe Di Francesco ad allenare giocatori Che sono 5 volte superiori ma anche di più rispetto a quelli che ha allenato fino a una corsa a suolo E quindi sotto questo punto di vista ci sarebbe un miglioramento Però non lo vedo secondo me ancora pienamente maturo Per allenare la Roma Sappiamo bene che l'ambiente giallo-rosso è difficilissimo E neanche Spalletti è riuscito a gestirlo bene Infatti nelle ultime giornate si è lasciato andare a dichiarazioni un po' esagerate Ma anche perché era ed è esasperato da tutte le voci Tutte quante le offese che gli fanno nei suoi confronti E quindi Di Francesco lo vedo ancora un po' troppo Giovane diciamo un po' troppo impreparato Per poter gestire questo ambiente Poi può essere anche un altro Conte Nel senso che anche Conte quando è andato ad allenare la Juve Aveva avuto solo un'esperienza brutta con l'Atalanta In Serie A parlo ovviamente In cui aveva perso tipo 5 partite dei fili ed era stato subito esonerato Quindi non si può parlare per partito preso Non è che se Di Francesco ha fatto male nell'ultimo anno con Sassuolo Allora sicuramente farebbe male con la Roma nella prossima stagione Può darsi che comunque trovandosi in un ambiente Che lo ha accolto e comunque lo ha doati fatto Visto che Di Francesco è un ex giocatore della Roma Per diversi anni Potrebbe trovare serenità e potrebbe dare tranquillità a tutto l'ambiente E gestirlo nel modo giusto Però di principio preferirei che rimanga Spalletti in parole povere Perché si fanno tanti nomi Ma Sousa è impresentabile veramente Quelli della Fiorentina lo sanno anche meglio di me Che sarebbe veramente impresentabile come giocatore della Roma Mancini a me non piace perché le squadre Calena le fa sempre giocare male E i campionati che ha vinto L'ha vinto soltanto perché le società gli hanno speso centinaia di milioni E poi perché nell'Inter c'è la Zlatan Ibrahimovic Secondo la mia modestissima opinione Citando un mio collega youtuber Le altre opzioni non mi piacciono particolarmente Io se devo scegliere preferirei mille volte che rimanga Spalletti anche la prossima stagione Magari con un totti ritirato potrebbero placarsi le polemiche sul suo conto E potrà lavorare in maniera più tranquilla Ma qualora dovesse arrivare Di Francesco ad allenare la Roma E la Roma deciderà quindi di pagare la clausola per acquistarlo Per prenderlo come allenatore Gli darò tutto il mio supporto Certo criticandolo quando magari sbaglia qualcosa Quando magari non fa la formazione giusta O fa i cambi sbagliati Quello come si critica lui è giusto criticare anche i giocatori Però criticare sempre in maniera costruttiva Non facendo video nel mio caso In cui dico che fa schifo Che non è capace Che è indegno Che è una vergogna Eccetera eccetera Bisogna sempre fare critiche costruttive Per aiutare i giocatori in alcuni casi Ma in questo caso l'allenatore A poter migliorare E per un allenatore che arriva nella prima piazza importante Della sua carriera La prima cosa che i tifosi devono fare È non rendergli il compito ancora più difficile Secondo me Ragazzi fatemi sapere nei commenti Allora voi cosa ne pensate di un possibile approdo Se così si può dire Di Di Francesco come nuovo allenatore della Roma Io vi concludo il mio discorso dicendo che per me Preferirei che rimanga Spalletti Perché Di Francesco è ancora un pochino inesperto E deve migliorare su alcuni atteggiamenti Ma qualora arrivi Visto che è riuscito a valorizzare diversi giovani Ed è comunque un buon allenatore Gli darò il mio supporto Considerando anche che comunque è un allenatore molto professionale Ci vediamo domani per un altro video Anzi ci vediamo più tardi Per un altro video inerente al calciomercato Sempre e comunque Forza Roma Ciao ragazzi Grazie